Scampato pericolo ma molta paura tra i numerosi studenti per l'incendio scaturito dal vano motore di un autobus sulla tratta Larino-Casa Galenda. Dossi di sostanze stupefacenti all'interno del penitenziario di Larino. La droga arrivava dai pacchi consegnati ai detenuti dai familiari. Operazione conclusa. Per la riapertura a transito veicolare sul viadotto Longo tra Belmonte e Castigliore Messermarino i tempi sono lunghi. Si parla di un anno e mezzo. Il numero dei cinghiali è in aumento nelle campagne della regione. I cacciatori chiedono alle istituzioni un periodo maggiore per l'attività venatoria. Buon poveriggio gentili telespettatori. Come dicevamo dai titoli, le squadre dei vigili del fuoco di Termoli e Santa Croce di Magliano sono intervenute questa mattina per domare un improvviso incendio di un autobus ATM che trasportava circa 30 studenti pendolari tra Larino e Casacalenda sulla statale 87. La prontezza dell'autista ha permesso l'evacuazione dei ragazzi spaventati dal fumo e dal veloce propagarsi delle fiamme. Le forze dell'ordine hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'area. Le cause dell'incidente sono al vaglio del personale, del nucleo investigativo, del comando provinciale. Dei vigili del fuoco indagano anche sull'accaduto i carabinieri. Cambiamo argomento ma restiamo alla cronaca. Troca droga in carcere a Larino consegnata ai detenuti dagli stessi familiari all'interno di pacchi settimanali. Le forze dell'ordine dopo un'attenta attività hanno scoperto l'introduzione illegale di stupefacenti. Sono stati emessi sette provvedimenti di custodia cautelare. Alle operazioni hanno preso parte oltre la polizia penitenziaria anche i carabinieri. Conferenza questa mattina a Larino del procuratore capo della Repubblica Isabella Ginefra e del dottor Antonio Larana. Prende il nome Pacco Frilo per azione eseguita nella notte all'interno della casa circondariale di Larino che ha portato all'esecuzione di cinque arresti in flagranza di reato nei confronti di persone già detenute e loro familiari. Cinque arresti che vanno ad aggiungersi ad altre sette misure cautelari già seguite nei mesi scorsi per identica ipotesi di reato che nella fattispecie concorso in spaccio di sostanze stupefacenti ha gravato determinante il ruolo della polizia penitenziaria in stretto coordinamento con l'arma dei carabinieri. Ha già portato a termine altre operazioni contro i tentativi di fare entrare sostanze stupefacenti all'interno della casa circondariale Frentana. Nell'operazione compiuta questa notte sono stati sequestrati 400 grammi di sostanze stupefacenti nella fattispecie coca e hashish. Alquanto fantasiosa le modalità con le quali i familiari dei detenuti coinvolti tentavano di fare entrare la droga dentro il carcere, dalle spedizioni in pacchi postali fino all'occultamento delle sostanze dentro gli stick da deodorante. L'operazione che ha visto coinvolti anche 30 militari dei carabinieri con l'ausilio delle unità cinofile segna l'ennesimo colpo inferto allo spaccio in basso Molise dopo l'operazione Lungomare. Mandante Gaeta, già l'operazione Lungomare aveva risollevato l'attenzione su quelli che sono i fenomeni di spaccio soprattutto in basso Molise. Lei a margine di questa conferenza stampa ha sottolineato anche lo stretto coordinamento tra le forze di polizia e il ruolo dei carabinieri. Sì, in effetti questa è un'operazione che segue dopo pochi giorni un'altra grande operazione che abbiamo fatto qui in Molise con 23 arresti che congiuntamente a questa dove ne sono stati effettuati 7 stamattina ma 5 nei mesi precedenti è una forte azione di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti che in effetti nel Molise è particolarmente sentito. Le istituzioni tutte in questo caso in collaborazione con la Polizia Penitenziaria, la Procura, ma tutte le associazioni, gli avvocati, gli psicologi, i medici, ci siamo tutti facendo fronte in maniera più forte, chiaramente anche con la stampa, a questo fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti che, come diceva la signora Procuratore, nel basso Molise è ancora più diffuso. L'operazione di questa notte, andando a scardinare anche alcune piazze di spaccio costituitisi all'interno di un carcere addirittura di Larino, è una forte risposta, è un segnale che le istituzioni seguono, ci sono e operano. Una colossale frode fiscale per un valore di oltre 85 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Sernia che, su disposizione della Procura della Repubblica, ha eseguito sette misure cautelari tra imprenditori, professionisti e collaboratori, ma anche amministratori di società con sedi, oltre che a Disernia, in altre città di Abruzzo, Lazio, Campania e Puglia. È stato disposto inoltre un sequestro preventivo per circa 24 milioni. Nell'operazione, frutto di anni di indagine condotta dalla Guardia di Finanza, sono stati impiegati oltre 100 militari e numerosi automezzi. Lasciamo la cronaca. La libertà di stampa è il primo presidio a difesa della democrazia del Paese. A sostegno della libera informazione, l'ordine dei giornalisti e la sostampa del Molise hanno organizzato una manifestazione pacifica. Questa mattina... Mai come in questo periodo assistiamo a delle cose inconcepibili, mai verificate nella storia della Repubblica. La sollecitazione ad abolire l'ordine dei giornalisti, la sollecitazione anche alla presentazione di atti parlamentari per abolire quel residuo finanziamento pubblico alle testate di partito, alle cooperative. E poi questo attacco vehemente, greve e anche scomposto di una parte politica riferita a dei fatti giudiziari che la stampa ha solamente raccontato. Questa è una cosa che non si è mai verificata in una nazione, quindi noi siamo molto preoccupati e allo stesso tempo molto mobilitati per difendere la democrazia e la libertà di espressione in questo Paese. Ed è un presidio per difendere la dignità dei giornalisti, che soprattutto in una regione come il Molise fanno grandi sacrifici in un contesto diffuso di precarietà. Quindi difendiamo la nostra dignità, ma vogliamo difendere quell'articolo 21 della Costituzione che è il cardine della democrazia. Certi attacchi probabilmente mirano a scardinare quello che è l'articolo 21 della Costituzione e da parte nostra è inaccettabile. Probabilmente questi attacchi mirano a creare disinformazione, ma sicuramente con un obiettivo quello di condizionare anche l'opinione pubblica. Ma ricordiamo a tutti che la libertà di stampa è il primo presidio della democrazia, così come ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. A fianco dell'Associazione della Stampa e degli esponenti dell'Ordine dei giornalisti del Molise, oggi in Piazza Vittorio Emanuele a Campobasso, anche il primo cittadino del capoluogo, il sindacalista Emilio Izzo, per difendere aziende, editori e lavoratori. È uno delle componenti della nostra democrazia che noi pensavamo compiuta, ma comunque in un'evoluzione e che ahimè viene messa in discussione proprio in questi mesi, in questi tempi, sia con la chiusura dei finanziamenti, proprio a far morire le attività piccole o grandi che ci sono soprattutto nelle regioni e nelle realtà più debole da un punto di vista economico, ma fino a mettere in discussione la stessa libertà di stampa con appellativi e rapporti nei comuni di tutta la stampa nazionale, che ahimè mi scandalizza, guardate, mi scandalizza e sono seriamente preoccupato. Mai mi sono sognato e mai mi sognerei di dire che la stampa va limitata, la stampa che ti piaccia o no deve esistere, perché se togliamo parola al divulgazione delle idee, allora finisce il mondo. Vorrei soltanto stigmatizzare le dichiarazioni di Di Marzio, onorevole oggi senatore, che è dirsi voglia della Repubblica, che dice che lui non è presente a questa manifestazione, però si dichiara favorevole alla libertà di stampa e poi aggiunge, però vanno riviste le modalità. Allora se uno che è favorevole dice che vanno riviste le modalità, mi immagino da quelli che non sono favorevoli. E ho detto tutto. Intanto l'ordine dei giornalisti e la sostampa del Molise hanno promosso un convegno sullo stato dell'informazione locale e i finanziamenti pubblici. L'appuntamento è fissato sabato mattina all'Istituto Superiore Leopoldo Pilla, Campobasso. L'attività venatoria ai cinghiali in Molise è aperta solo nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, ma il numero di questi ungulati è in continua crescita. Nelle campagne di Trivento abbiamo incontrato alcuni cacciatori. Sono diverse le vostre uscite, non solo la domenica, per cacciare i cinghiali. Un fenomeno o una piaga nel Molise per il numero che sembrerebbe sempre in costante aumento da parte di questi ungulati? Beh, diciamo che ultimamente questi ungulati ce ne sono parecchi, ma non è poi quella eccessiva, come dicono tutti questi. Anche io sono figlio di agricoltore, dicono che fanno i danni, ma alla fine non c'è tanto danno, perché io vedo che ultimamente usciamo soltanto il sabato e la domenica. Stamattina abbiamo fatto sta cacciata e è andato molto bene. Ultimamente abbiamo fatto sì, uno, due, sempre parliamo il sabato e la domenica, perché la caccia è consentita per il cinghiale nel Molise, anche il mercoledì, però non avendo tempo, la squadra chi lavora, chi non ha tempo, non possiamo andare anche di mercoledì. Però diciamo che ultimamente, avendo le riserve intorno, l'animale ha da mangiare nelle riserve e non esce, rimane dentro. Nelle riserve è vietato, quindi non possiamo ammazzare più di tanto. Per il cittadino diciamo che questo non è un animale che attacca. Ovviamente attacca quando l'animale è ferito, che lo stiamo cacciando, ferito attacca, ma nel mentre che tu cammini, se stai facendo una passeggiata, io li ho incontrati diverse volte, non è mai successo. Sempre più spesso i cinghiali si avvicinano ai centri abitati, cosa sta succedendo? Allora, si avvicinano nei centri abitati perché ultimamente, ma questo succede nei periodi ma da aprile, maggio, giugno, luglio e agosto che è ferma la caccia, l'attività venatoria è ferma, allora loro per mangiare di più si avvicinano dove c'è qualche po' di discarica, diciamo questa roba che qualcuno lascia in abbandono e mangiano queste cose e si avvicinano nei paesi più vicini al centro abitato. Quale potrebbe essere il consiglio delle vostre squadre, dei cacciatori, alle istituzioni per ridurre o tentare di ridurre il numero di animali? Allora, prima di tutto lo rivolgo all'assessore caccia e pesca, Nicola Cavaliere, prima di tutto di sostenerci e di fare le cose molto più corrette, perché di lasciarci liberi da andare a caccia, non dico tutti i giorni, mercoledì, sabato e domenica, con meno i controlli, con meno roba che ci controllano dalla mattina alla sera, la forestale, ormai è aperta la caccia, fateci andare a caccia. Un'altra cosa, la caccia se tu ce la apri da settembre, va bene lo stesso, che tu ci mandi a caccia ottobre, novembre e dicembre. Cambiamo argomento, i residenti nei paesi tra l'Alto Molise e il Basso Chietino hanno chiesto un'apertura rapida del viadotto Longo sul Torrente Sente, prevedendo un senso unico alternato a velocità ridotta per ripristinare le comunicazioni tra le province di Isernia e Chieti, chiuse da circa due mesi. Le autorità preposte, riunitesi nel Palazzo del Governo ad Isernia, hanno invece previsto tempi non inferiori ad un anno e mezzo e confermato dal Governo nazionale due milioni di euro per la messa in sicurezza del viadotto per la viabilità alternativa sull'ex statale Istonia da Castiglione ad Agnone sono state assegnate altre somme pari a 300 mila euro. Cambiamo argomento, una manovra finanziaria debole e carente che non risolve l'emergenza disoccupazione nel mezzogiorno. Il segretario organizzativo della UIL, Pierpaolo Bombardieri, è intervenuto a Campobasso e critica il Governo nazionale. Pierpaolo Bombardieri, segretario organizzativo della UIL, voi definite la manovra del Governo, la manovra fiscale debole e carente. Come mai? La definiamo così perché intanto vediamo che mancano interventi strutturali per creare nuova occupazione. Non siamo tanto preoccupati del fatto che ci possa essere un superamento del rapporto fra PIL e deficit, ma siamo preoccupati perché quelle risorse, immaginiamo, debbano essere utilizzate per interventi strutturali. Interventi strutturali, investimenti pubblici che creino occupazione, che creino posti di lavoro stabili. E siamo preoccupati perché in qualche modo immaginiamo che è una ripresa ciclica, possa avvenire soltanto se si dà la possibilità di una ripresa dei posti di lavoro, dei posti di lavoro dignitosi. Non siamo convinti che la scelta di dare un sussidio sia la scelta giusta. Quindi siete contro il reddito di cittadinanza. Avvertito però in particolare nel mezzogiorno del Paese, d'altronde anche il risultato delle ultime elezioni politiche ha parlato chiaro. Ci sarebbe bisogno di una maggiore presenza dello Stato e del welfare in particolare? Noi non vorremmo accettare questa semplificazione. Noi non siamo contro il reddito di cittadinanza. Siamo perché le risorse siano utilizzate per creare posti di lavoro stabili. Noi immaginiamo che il mezzogiorno si riprende attraverso interventi infrastrutturali così come in Molise e così come nel resto del mezzogiorno. Immaginiamo che i giovani del mezzogiorno più che il reddito di cittadinanza vogliono posti di lavoro sicuri, fissi, con i quali accendere un mutuo, con i quali creare una famiglia. Ecco, non siamo contro. Siamo per un'altra idea di Paese. Le ultime tragedie di queste settimane hanno riproposto il tema dell'abusivismo edilizio e della mancata manutenzione del territorio. Perché secondo lei c'è questa superficialità nell'affrontare un argomento che poi è così importante? Perché la politica ha difficoltà ad assumere decisioni complicate. Quindi se si deve limitare, se si deve abbattere una opera abusiva è complicato e si perde il consenso. Ormai rischiamo di avere una politica che parla solo la pancia e che ragiona solo in vista delle prossime elezioni elettorali. Noi chiediamo che la politica abbia un'idea di Paese un po' più ampia. Corruzione e anche appunto le connivenze sono il problema dell'Italia. Sì, noi abbiamo ogni anno 111 miliardi di evasione fiscale e in qualche modo ogni anno la politica ci ripropone eventuali patti per sanare situazioni pregresse. noi vorremmo che oltre a parlare di alcuni temi che il ministro degli interni tratta abbastanza di solito si parlasse invece di delinquenza di mafia. Questi termini sembrano spariti dalla gente del Paese e invece noi riteniamo che siano il vero tram di questo Paese. Lo sviluppo economico ha provato la proroga del contratto d'affitto di ramo d'azienda di Solagrita la GAM che era la condizione necessaria per arrivare alla concessione della Cassa Integrazione a circa 260 dipendenti dello stabilimento avicolo di Boiano. Il felice esito dell'estenuante vicenda occupazionale è stato il frutto del lavoro in sinergia tra Regione e Delegazione parlamentare molisana sindacati e maestranze. L'operato del governo toma in continuità con quello di frattura Pino Lafratta neocoordinatore della CGL Abruzzo e Molise non vede alcun cambiamento rispetto al passato nella linea politica della maggioranza di centro-destra. Pino Lafratta neocoordinatore regionale CGL Abruzzo e Molise in che modo il sindacato può essere in questo momento più vicino alle istanze di chi è in difficoltà soprattutto in una regione come la nostra? Può esserlo se non dimentica gli ultimi se non dimentica quelli che in realtà molte volte sono i dimenticati che non hanno un lavoro i precari quelli che lavorano per esempio all'interno di categorie che non vengono nemmeno alla luce pensiamo per esempio ai riders pensiamo a quelli che sono dietro l'algoritmo che governa Amazon e i siti online noi abbiamo bisogno di garantire chi un lavoro ce l'ha ma soprattutto bisogna porsi nei confronti di chi questo lavoro non ce l'ha delle partite IVA di tutti quelli che sono anche le professioni intellettuali che sono sfruttate sono tanti gli universi del mondo del lavoro che sono anche cambiati rispetto alla vecchia fabbrica e agli operai gli operai sono sempre di meno le figure di sfruttate sono sempre di più quindi noi come sindacato dobbiamo intercettare questi nuovi bisogni di lavoro che ci sono oggi Come giudica finora l'operato del governo regionale in carica sul tema del lavoro? Io lo giudico in perfetta continuità con quello precedente e quindi male non mi sembra che ci siano delle svolte da nessun punto di vista ci sono delle interlocuzioni in alcuni campi migliori in altre inferiori rispetto ai temi della conoscenza per esempio noi abbiamo denunciato da subito che non c'erano proprio all'interno del programma del governatore i temi della conoscenza dopodiché abbiamo chiesto delle interlocuzioni su alcune cose importanti che possono essere il dimensionamento scolastico il problema degli organici e non abbiamo avuto disposte ancora stiamo aspettando di sentire di sederci intorno a un tavolo per capire qual è l'idea di conoscenza che hanno in questa regione sempre se ci sia un'idea perché a noi ci sembra che ci si limiti a amministrare ma amministrare non vuol dire avere una idea di futuro e di sviluppo della regione non basta solo verificare che i servizi vengono effettuati più o meno bene bisogna cercare di impegnarsi affinché si migliori l'offerta formativa di questa regione e mi sembra che non sia accadendo per le donne di età compresa tra i 50 e 69 anni proseguirà fino a venerdì 16 all'ospedale Cardarelli di Capobasso lo screening mammografico della neoplasia della mammella lo stesso programma è previsto anche all'ospedale Santissimo Rosario di Venafro fino a giovedì 15 la fondazione sommelier presenta un programma di attività dedicato all'olio extravergine di oliva e alle olive da tavola un'occasione per imparare ad apprezzare l'olio e capirne pregi e difetti domani alla galleria del vino a Campobasso la fondazione dedicherà un pomeriggio a partire dalle ore 16 la docente nazionale d'ora formato i sommelier dell'olio guideranno la delegazione siamo adesso alle previsioni del tempo soleggiato con poche nubi oggi sul Molise è parzialmente stellato dalla sera le temperature odierne sono comprese tra i 10 gradi di Campobasso e la massima di 19 a Termoli ventilazione debole variabile quasi calmo e medio adriatico sulla regione domattina il cielo si presenterà velato poco nuvoloso valori climatici in leggero calo venti settentrionali siamo alla pagina sportiva avvio di stagione da applausi per la magnoli a campobasso nel torneo femminile di pallacanestro di A2 sette successi in altrettante gare l'ultimo conquistato a Bologna l'obiettivo di società e squadra è quello di arrivare a maggio ai playoff anche se la Coppa Italia potrebbe essere un appuntamento importante per le rosso-blu il quintetto del capoluogo in questo momento è consapevole di un percorso che solo ha il suo inizio prossimo impegno interno sabato alle 20.30 al Palavanzieri contro il Savona dell'ex Federica Alessiani poi ancora tra le mura amiche il match Bivio al cospetto del Faenza lasciamo la pallacanestro passiamo al calcio gli errori individuali degli atleti del Campobasso in questo periodo della stagione in Serie D sono frutto della poca tranquillità e autostima di chi scende in campo domani avvasto il neotecnico Massimo Bagatti e l'atleta Francesco Antonelli sono certi delle potenzialità della squadra per risalire la classifica io ho visto una squadra che in allenamento faceva delle cose che oggi non ha rifatto perché giustamente sono ragazzi e in questo momento sono tra virgolette sotto non hanno autostima hanno poca autostima e questa bisogna fargliela ritrovare con la con magari con l'organizzazione con voglia di bisogna tirarsi fuori tutti insieme da questa situazione perché sicuramente le giocate che avevamo provato e alla fine sai quando non sei tranquillo preferisci buttare direttamente una palla più lunga o magari preferisci giocare indietro per paura di sbagliare e quando si ha paura di sbagliare alla fine si sbaglia quindi il lavoro secondo me che deve essere che devo fare è un lavoro proprio sulla sulla mentalità sulla voglia di sul non aver paura per poter giocare a un buon calcio perché con la paura a un buon calcio non si può giocare io non posso rimproverare niente ai ragazzi sull'impegno io non so se avete visto la stessa partita che ho visto io ho visto una squadra che ha dato tutto dal primo all'ultimo minuto il fatto di rimediare una partita alla fine è sempre un segnale è un segnale incoraggiante anche perché ho visto dopo ho preso il gol ho visto molti musi bassi una squadra che sembrava gli fosse cascato il mondo addosso poi dopo anche quei cambi abbiamo riprovato a giocare e l'abbiamo ripresa quindi secondo me è un segnale importante io sono qua perché veramente qui c'è una società fortissima che voi che penso che voi come stampa e i tifosi devono sopportare perché si stanno io ho noto un'organizzazione che in serie D non si trova qui ci hanno fornito un'organizzazione di categoria ben più superiore stanno facendo le cose benissime la squadra è partita in ritardo secondo me ci sono tutti i presupposti per rimettere a posto le cose si è sofferto poco secondo me anzi è stato buono l'atteggiamento che abbiamo avuto sono tre giorni solo che insomma è arrivato il mister nuovo e le sue idee insomma le sue idee di gioco comunque sono state ben apprese da noi tutti per cui sicuramente c'è da migliorare però credo sia la strada giusta questo non so se è una una cosa a livello mentale probabilmente anche non è semplice giocare con il pubblico che giustamente ti fischia però però ti ripeto questa secondo me è la strada giusta e faremo sicuramente meglio nel girone adriatico della Serie D domani pomeriggio alle ore 14.30 si giocherà il dodicesimo turno di andata il Campobasso scenderà all'Aragona di Vasto contro i biancorossi abruzzesi in trasferta anche Liserni a Monte Giorgio l'Olimpia agnonese ospiterà invece i romagnoli del Sant'Arcangelo sul campo neutro di Trivento siamo in chiusura il ciclista Andrea Cardillo ha scelto la società Molise Tour Bike per ripartire farà coppia con Paolo Bettini nella prossima stagione agonistica sulle due ruote nel settore mountain bike con questa notizia abbiamo chiuso il nostro telegiornale grazie a risentirci a questa sera grazie a tutti aBuonton! a Grazie a tutti.